Quando ci troviamo di fronte, hai in mano il mio cuore, da che gli hai ristituito il battito, e ora dici che vuoi conoscermi. Qualcosa si muove lento sotto questo caos, è una pioggia che si addice, poi altrove neve, le gocce cadono, l'introduzione propria, le mani sono manifesti emotivi, quindi la via d'uscita è l'amore, la salvezza è lasciarsi all'amore. Bellissima, non c'è scritto però, è una nota a piedi pagina, no? David Foster Wallace mi faceva, mi faccio anch'io. Sulle carte speciali non si soffermano le tue parole, che ricordino, o neppure dicano che noi apparteniamo. Lasciate sole, vivono sole, si appendono come fotografie. E chiudo la sezione mia preferita. Il tempo se lo mangiano le parole, ti vorrei toccare, così sentiresti che sono io, e non la sintassi di un'idea.